Saranno rimosse domani mattina, sabato 22 maggio, lungo i sentieri di Punta Tresino, le auto bruciate e abbandonate nel comune di Castellabate. L'operazione di bonifica si sarebbe dovuta svolgere un mese fa, ma a causa di impegni imprevisti da parte della ditta incaricata, l'operazione non andò a buon fine. L'ente comunale nel tempo ha raccolto diverse segnalazioni in merito alla presenza delle automobili anche da parte della guida escursionistica Danilo Palmieri, sempre attenta a Sentinella per la manutenzione dei sentieri. Con il recupero e lo smaltimento di questi rifiuti speciali si andrà a risolvere un grosso problema ambientale che riguarda il decoro di una delle aree verdi più belle ed incontaminate del territorio occidentano. L'ente comunale già nei mesi scorsi avviò le operazioni di pulizia straordinaria recuperando un camper abbandonato nella vegetazione.